Ciao, bella vita a bordo, uno stress, continuo a regolare le vele, ma meglio lavorare. No, ma la vita del vele sta vicendo. No, ma il coltivo è cazza, è bolla, è lastra, non puoi neanche mangiare niente. E' un coltivo e fa il mio dico. Ma si, è un coltivo regolare, è fare. Caro Giulio, no, mi dispiace, non è per me. Grazie a tutti.